Chi se mi dà l'indicazione un minuto ma io personalmente grazie tu auguri prima di iniziare personalmente più che salutare l'anno che sta arrivando io mando a farlo l'anno che è passato su, ritorno, saluto arrivederci e grazie aspetta eh, guarda il freschi lui c'è la precisa aspetta, benissimo 30 secondi ma ce l'ha giusto il freschi ci dobbiamo vantassare su qualcuno attenti eh occhio al tappo dieci adesso nove 8 7 6 5 4 3 2 1 è uno al bicchiere Ci c'è già un bicciarnetto.